CERVED Ciao, siamo Angela e Leonardo, rispettivamente CEO e CTO di Studiomap. Ci occupiamo di Geointelligence e di servizi innovativi che utilizzano dati geospaziali. Siamo molto felici di essere stati selezionati per questa prima edizione del CERVED Fintech Competition perché volevamo da tempo che CERVED diventasse il nostro partner. Vogliamo infatti poter offrire un servizio di qualità ai nostri clienti e siamo sicuri che il patrimonio informativo di CERVED ci potrà aiutare a garantire il dato più accurato e affidabile. L'esperienza è stata sicuramente molto positiva e siamo fiduciosi che si attiveranno delle interessanti collaborazioni. Ciao a tutti!